Il nuovo ospedale di Albenga, mobilità del personale, nuovo assetto dell'ASL 2 Savonese. A che punto è la trattativa sindacale? La trattativa sindacale fa acqua da tutte le parti, nel senso che comunque non siamo per niente soddisfatti dalla data dell'accorpamento, quindi dal primo di luglio, abbiamo avuto delle trattative con l'azienda ma sostanzialmente non si è mai riusciti a concretizzare praticamente nulla. Nel senso che abbiamo sempre messo la nostra disponibilità e anche con la volontà di chiudere argomenti importanti, abbiamo due integrativi da sistemare, da mettere insieme, ci sono reparti, unità operative che funzionano in maniera completamente diversa, si tratta di integrare un po' tutto l'aspetto organizzativo e questa cosa non è ancora avvenuta e l'azienda comunque procede unilateralmente su argomenti che sono ovviamente anche da condividere con le organizzazioni sindacali. Adesso apre il nuovo ospedale, arriveranno 40 persone, sembrerebbe, ma anche lì non arrivano subito, perché dall'apertura probabilmente arriveranno più tardi, quindi entro la fine del mese e quindi anche lì ci piacerebbe capire un attimino come organizzano l'ospedale all'inizio, diciamo quindi alla data dell'apertura, sicuramente noi la nostra parte l'abbiamo fatta e se ci saranno delle responsabilità io credo che queste debbano essere, non devono ricadere ovviamente sul sindacato, questo credo che sia importante. Crediamo che sia comunque l'impegno di tutti un'integrazione con l'ospedale di Santa Corona e qui credo che l'azienda debba fare la sua parte in quanto, ripeto, non abbiamo ancora visto in concreto nulla di questa cosa qua.